Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nel 2006 la professoressa Lucia Liguori, divorziata e residente a Milano, si reca a Roma per far visita a sua madre. Nella capitale incontra casualmente l'oste Giulio Cesaroni, suo fidanzato in gioventù e vedovo da 5 anni. Tra i due si riaccende la passione e la decisione di sposarsi è quasi immediata. Lucia si trasferisce a Roma nel villino monofamiliare di Giulio insieme alle figlie avute dal primo matrimonio, Eva e Alice. A inizio così la storia dei Cesaroni, una famiglia allargata composta da ben sette membri, i due genitori, le due figlie di lei e i tre figli di lui, Marco e Rudy, coetanei rispettivamente di Eva e Alice, e il piccolo Mimmo. Il matrimonio di Giulio e Lucia è messo più volte alla prova, principalmente dal pessimo rapporto creatosi tra i rispettivi figli, tanto che Eva vuole ricongiungersi con il fidanzato. È noto a tutti noi che Elena Sofia Ricci, interprete di Lucia, in i Cesaroni, sia figlia di Elena Ricci Poccetto e Paolo Barrucchieri. Tuttavia, l'attrice ricorda con soma tristezza la perdita del padre adottivo Pino Passalacqua. Il regista scomparve nel 2003 e il 29 luglio, all'età di 67 anni. Non tutti i fan dell'attrice sapranno però che Elena Sofia Ricci è stata cresciuta appunto, dal padre adottivo Pino Passalacqua. Attraverso i social, Elena protagonista di moltissime fiction italiane di gran successo, come Cesaroni, Che Dio ci aiuti eccetera, abbia ricordato con amore e alcune frasi come Quell'uomo l'abbia amata e cresciuta come se fosse sua figlia. Scendendo nei particolari, la nota attrice protagonista di serie famosissime Ryan Mediaset, ha postato una foto in cui vengono ritratti la figlia Emma insieme al regista. Nella caption scrive quanto gli manca, e quanto sia stata prematura la sua scomparsa, che avrebbe desiderato imparare di più da lui. Maestro di vita e padre che gli manca oggi come allora. Nonostante siano passati ben 19 anni dal tragico evento, il suo ricordo vive ancora nel vivo cuore. Questa non è la prima volta che l'attrice riserva parole di amore verso il padre adottivo scomparso. Durante la sua vita, Elena Sofia Ricci non ha mai potuto conoscere il padre biologico. Tuttavia all'età di 30 anni ha potuto fare la conoscenza dei fratelli Marco, Paola ed Elisa. Prima di quel momento, l'attrice ha potuto contare soltanto sull'appoggio della madre e del regista scomparso. In queste parole si evince tutto l'amore, e l'affetto che l'hanno legata a lui. Cresciuta come se fosse sua figlia e amata come tale. Il ricordo di Pino Passalacqua sarà sempre vivo nel cuore dell'attrice. I figli sono di coloro che gli dedicano tempo e amore.